è passato molto tempo da quando ho vissuto un totale sconvolgimento tanto che per me l'acqua bruciava più del fuoco niente passeggiato lungo il fiume solo passi affrettati sul ponte per oltrepassarlo più in fretta possibile tanto mi sembravano fiamme le stesse acque dicevo ad un amico passa il ponte e mi sembra di attraversarlo l'inferno così cercai di allontanarmi da quel fiume e dalla città passa il tempo trovo un'altra città ma era senza fiumi aveva solo il mare a me bastava possibilmente andavo in riva al mare e sempre nello stesso posto mi convincevo che prima o poi andando sempre lì avrei trovato chissà che cosa la luna non andò così un giorno venne una forte ondata rischia di annegare proprio là dove mi piaceva recarmi spesso ma da quel momento cominciò a cambiare la mia storia con la sua grandezza il mare in me ed io in lui per rimanere per sempre nella profondità del mio cuore e nella mia mente ho ancora voglia di dire stella bruciante di fuoco indicami la via come un fiume di fuoco grazie a tutti grazie a tutti